Non si era che odore, infatti molta gente che è sopravvissuta dice che aspetta noi che eravamo alla baracca 23-24 dovevamo andare in giro così perché c'era un odore molto anche. Quando il forno prematorio non riusciva a sfatire i morti, cosa facevano? Non li accatastravano, li accatastravano vicino alle latrine e c'era gente che diceva che quando doveva andare a fare pipì doveva farsi spazio tra i corpi. Quindi è molto difficile anche sopravvivere in questo posto. Quei morti che non riuscivano a bruciare cosa facevano? Scrivevano sul petto, tatuavano sul petto o con un coltello, tanto erano morti, la matricola e la provenienza. Infatti io qua dovrei avere una foto con su una persona tatuata, morta, vicino al forno prematorio in attesa di essere premata. Adesso se volete me la posso passare. Ecco, questo qua per esempio è le persone nelle baracche, come venivano, come potevano dormire, come potevano starci, che non erano come i nostri letti comodi con il cuscino e la trapuntina. Quindi, in ogni letto c'erano tre persone, se volete far passare anche questa, non c'è problema. Per esempio questa è una fotografia, questo è il muro, è il muro che sta qua sotto, sotto vicino al forno prematorio. Queste ammassate sono tutte le scarpe dei detenuti che hanno bruciato, sì, è una montagna di scarpe. In ogni posto del campo di concentramento c'erano dei luoghi dove mettevano gli effetti personali. C'era un luogo con tutti i capelli, in cui si rasavano, c'era una montagna di capelli, un luogo con tutti i vestiti, un luogo con tutte le scarpe, poi venivano bruciate. Quelli che venivano bruciate non nel crematorio, ma così a cielo aperto. Ho qua anche una foto del crematorio che c'è ancora, questo po' del crematorio. È un po' come dire il film dell'orrore. Sì, sì, è il problema che all'inizio chi entrava nel campo di concentramento non si accorgeva, si accorgevano solo dopo. Questa è una foto del crematorio che c'è tutt'ora. Questa è una foto di un tavolo operatorio, perché a Flossenburg, come in altri campi di concentramento, i tedeschi facevano purtroppo degli esperimenti sui detenuti. Proprio degli esperimenti che neanche le bestie arrivano a fare tanto ai loro simili. Facevano questi esperimenti perché... Perché... Ma questi esperimenti che facevano mentre i detenuti erano vivi o erano... Adesso ti dici. Allora, sostanzialmente mirava a fare un, come si può dire, un esercito di persone invincibili. Quindi, siccome era in guerra anche con la Russia, la Russia aveva il freddo, faceva degli esperimenti sui detenuti vivi per vedere come poteva ovviare al freddo della Russia. Per esempio, prendeva delle persone, vi immergeva in taloni liquidi che avevano la proprietà di scendere sotto lo zero per vedere la loro reazione. Questa poteva essere un esperimento. Oppure, prendevano delle persone, vive, tagliavano le gambe e provavano ad attaccare una persona due o tre gambe per vedere se stavano in piedi, se camminavano. Oppure, prendevano delle persone, tagliavano la calotta cranica per vedere la persona toccando con la mano il cervello quale reazione avesse. Perché, praticamente, aveva paura che quando i suoi soldati venivano fatti prigionieri li torturavano, lui cercava di capire alle torture come poteva ovviare. Cioè, quindi uno torturava a sentire dolore per cercare di togliere questo dolore. Però lo faceva su via come esperimento. Per esempio, le donne iniettava nell'utero sostanze tipo il tetano per vedere in quanto tempo morivano, cosa succede. Perché magari i loro soldati in guerra prendevano il tetano perché si tagliavano col ferro. Quindi, un soldato, quanto tempo prende il tetano, quanto tempo muore, calcolava il tempo di morte. Oppure, faceva esperimenti sempre sulle donne a vedere se riusciva a far nascere dei mostri. Per esempio, accoppiava le donne con dei cavalli o dei modelli animali. Sì, veramente, guardate che è triste la cosa. Perché lui voleva cercare di capire quanto più si poteva spingere l'uomo a fare degli esperimenti per creare magari delle razze diverse da quell'umano oppure la razza perfetta che era la razza riana. E questo è il tavolo dove a Flosserlur facevano questi esperimenti. E il tavolo c'è tutt'ora. Tanto è vero che i medici, poi sono stati catturati dopo la liberazione, sono stati poi condannati, penso che potete vedere, con i vari processi. Come? Cioè, dovevano farvi passare le stesse cose che non dovevano passare le persone? Eh, la legge del taglione, guarda, penso che anche... sono d'accordo con te, ci vorrebbe proprio che oggi, guarda. Comunque, niente, questa poi, vabbè, questa è una fotografia, tanto per farvi vedere le persone come erano denutrite. Questa è l'uscita quando poi è stato aperto. Sì, sì, sì. Questo era il comandante, che si chiama Max Kugel, era il comandante del campo di concentramento di Flosserlur. Diciamo che è lui responsabile di tutto quello che succedeva all'interno. E lui era dito quattro, era in direzione. Cosa dire altro? Niente. Ecco, il campo di concentramento aveva delle torri di guardie, che sono uno, due, tre, quattro, cinque, dove nessuno poteva sfuggire, perché naturalmente munite di soldati mitragliatrici, e il primo che sgarrava veniva ucciso. Aveva un magazzino edile qua, perché appunto, come dicevo, ci sono delle miniere, e quindi qua aveva dentro tutti gli strumenti. Mio zio Orellio era stato trasferito nel sottocampo di Ersbrook, dove avevano tutte le attrezzature per costruire gli aerei. Quindi lui ci veniva qua la sera a dormire e basta. Cosa dire l'altro? Se avete qualche domanda... Ma qualcuno è mai riuscito a scappare, non si sa, in questo campo? Sì, sì, ce ne sono tantissimi. Io ho contattato quattro o cinque persone che sono tuttora vive, che hanno conosciuto mio zio e hanno raccontato attraverso dei libri la loro storia. Io vi ho portato un paio di fogli tratti da un libro. Se poi magari qualcuno lo vuole leggere qui in classe, potete capire un po' anche cosa succede. Perché, per esempio, nel campo di Flossmo, che è con una curiosità, chi parlava tedesco era privilegiato perché veniva messo a lavori un pochettino meno faticosi, soprattutto a tenere un po' anche la corrispondenza con gli italiani. E quindi questi qua si sono salvati perché sapevano parlare tedesco. Dimmi. Quindi il mio zio non parla tedesco. Il mio zio non parla tedesco, purtroppo no. Mi spiace. Poi dopo vi racconto anche due piccole cose che vi faranno sorridere. Perché la nostra storia qua, di questi paesini qua, noi in zona Bregnano, Bazzate, catturavo prettamente contadina, no? E i fratelli di Aurelio, quindi mio papà e i suoi fratelli erano insetti in totale, no? Hanno sempre fatto tutti i rottamani. Quindi andavano e portavano i stracci, i rottami, ogni tanto magari vedevano qualcosa, la rubavano di ferro, così perché una volta naturalmente per vivere bisognava sopravvivere, non era vivere. Allora, due curiosità vi racconto. Nel 1945 il Duce, come sapete, è scappato e è stato fucilato in cima al lago di Como. La colonna del Duce è passata sull'autostrada, la nostra autostrada, perché forse non tutti lo sanno, ma l'autostrada Milano-Como è stata la prima al mondo ad essere costruita. Quindi negli anni 40 c'era già. Quando è stata bombardata la colonna del Duce? È stata bombardata nei pressi di Cadorago, dove c'è adesso l'autogrill. La mia famiglia, quindi la famiglia di Aurelio, è sempre abitata lì vicino all'autogrill. Quando c'è stato il raid aereo, mio papà mi ha raccontato che si sono nascosti tutti, perché insomma, immaginate, passa un aereo oggi, passa il Boeing, va alle Maldive. Una volta passavano gli aerei a bassa quota, se vedevano qualcuno, mi tragliavano e buttavano gli uomini. Cosa succede? Passano questi aerei, i miei genitori, mio papà e i suoi fratelli si nascondono per non farsi prendere, a un certo punto un aereo sgancia la bomba e colpisce un autocarro della colonna del Duce, perché si pensa che in uno degli autocarri ci fosse oro del Duce. Hanno preso controllo, purtroppo l'autocarro ha sbagliato. Cosa succede? Come ho detto prima, i fratelli di mio papà erano tutti rottamai. Appena la colonna del Duce si è allontanata, cosa fanno i miei papà e i suoi fratelli? Hanno preso i buoi al carro, sono andati là, hanno preso l'automezzo bombardato e l'hanno portato a casa, subito smonta tutto, fa sparire tutto per vendere il ferro. Quindi mio papà è stato di quelli che ha smontato un camion del Duce. Adesso vi racconto un altro che vi fa ancora più ridere. Quando sono arrivati gli americani, hanno fatto il posto di blocco, la loro sede a Como e il distaccamento l'hanno fatto a Guanzate, dove c'è il santuario. Adesso abbiamo i telefonini satellitari, quindi basta fare un numero e l'altro risponde. Una volta invece per parlare bisogna mettere il cavo. Quando i miei zii hanno visto che sono arrivati gli americani, hanno portato un rotolone su questo cavo. Il mio zio fa, caspita, rame, rame costa tantissimo, no? Allora hanno messo giù questo cavo da Guanzate a Como per parlare. Di notte i miei zii cosa hanno fatto? Hanno preso un rocchettone, sono andati a Cadorago, hanno tagliato il cavo e l'hanno fatto su, no? Il giorno dopo, vedi che gli americani senti proprio... Ah, mi sono state giù da Guanzate, plop, 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 non mi stanno nessuno. Allora a un certo punto cosa fanno? Decidono di mettere giù un altro cavo, no? I miei zii hanno detto sicuramente questi qua dovranno mettere giù un altro cavo perché si devono parlare. Vabbè, allora arrivano qua da Guanzate, arriva il rotolone, i miei zii appostati li vedono sto rotolone, no? E cominciano a mettere giù il cavo. Passa, arrivano verso Cadorago, figlio Mornasco e mio zio è dietro, ta! Così loro a svolgere, il mio zio è dietro, no? Allora giù a Camerlata, pronto, pronto, pronto? Ostra, non succede niente. E cominciano ad arrabbiarsi, ha detto allora lì qualcuno di Guanzate. Allora pensano bene a far arrivare un altro rotolo e partono stavolta da Camerlata a far vendere il suo rotolo, no? Mie zii erano furbi, anche loro ho detto sicuramente metteranno giù il rotolo, quindi andiamo alla Camerlata, lo metteranno giù da là, allora arriva il rotolo a Camerlata, svolgono il rotolo a Camerlata e in mezzo a Camerlata, ta! Insomma, in sostanza, gli ha portato via tra i rotoloni di rame, no? Questi qua, arrabbiatissimi, cosa hanno fatto? L'ultimo non si sono lasciati fregare, no? Hanno messo il rotolo, però ogni tot metri c'è la guardia che controlla, però i miei zii sono arricchiti anche un po' su queste cose qua, che erano un po' aneddoti di... E mi raccontava appunto i miei zii, fa guarda, questa storia qua del rotolo abbiamo riso per tanti anni perché ne abbiamo gabbati tre volte, primo il rotolo, poi da Guanzate a Como e poi da Como a Guanzate. E voi ci fa capire come... Eh sì, certo, certo, una volta c'è stata una chiesa bombardata, io sono un musicista, questo mi preme un po' da vicino, hanno bombardato la chiesa, mi è zii subito in chiesa a portare via la canna e perché non mi dà. Ho portato via la canna, sì, sì. Eh, d'altronde, guarda che purtroppo era così, si viveva un po' di spedienti, cioè non c'era come oggi il lavoro e la paga. C'era l'esperienza anche della paga. Eh sì, esatto, esatto. Niente, se avete domande io vi posso aiutare a vedere voi. Le cose di curiosità da chiedere, quindi ha raccontato, io non sapevo questo, perché è stato colpito proprio lì vicino. Sì, sì, sì. Ha raccontato la seconda guerra mondiale in questa zona, cioè Stadorago, Guanzate, sono un paio di vicini. Questa è la foto di Mio Zio, magari avete visto sul giornale, sicuramente. Quando vedete, è un ragazzino. Tra l'altro, come? Quanti anni ha detto? Ero a 19 anni. E lui, però, da quando era 17 faceva, tra virgolette, questo mestiere. Lei ha detto che quando è arrivato l'area andava a lungo la notte. Sì. Quindi, quanta gente c'era in un campo di concentramento? Eh, poteva arrivare anche a 2-3 mila persone. Dipende. Quando era arrivato Aurelio, come ho detto prima, è stato messo a punto nella baracca 22-23, che erano per i malati, appunto perché c'era tanta gente e le altre baracche, dalla 1 alla 20, non potevano accogliere le nuove persone arrivati. Quindi, le hanno messi lì, ma tutti, cioè, come avete visto dal foglio, da questa fotografia, tutti insieme, cioè 4-5 in un letto. Quindi, voi pensate che magari se il campo di concentramento poteva tenere mille persone, lì ce ne erano 5 mila. e era nel loro interesse avere più persone, perché più persone potevano spaccare più pietra oppure costruire più aeree. Quindi era come un paesino. Sì. Forse ne erano tanti nel campo. Ecco, adesso cosa c'è, cos'è rimasto di questo campo di concentramento? Le baracche naturalmente non ci sono più, perché erano fatte in legno. Tra l'altro queste baracche qua, fatte in legno ma senza finestre, avevano dei piccoli finestrini, e quindi voi potete pensare, magari 500 persone dentro in una casa, cioè l'odore che poteva esserci, oppure proprio il caldo, il freddo, cioè, era quasi sudore, cioè, era invivibile. Ma la baracche, un corridoio in mezzo, i letti da una parte, i letti da una parte. Sì, un corridoio in mezzo, i letti da una parte, adesso non so se ho qua un altro fuoco.